Ciao amici, sono Sasano Cerino, lavoro con voi e con Motion System, fantastico portale che vi dà ispirazioni per le post-lezioni di fitness. Lavoreremo in questo video con questo attrezzo, è un Bosu, molti di voi già lo conoscono, è un attrezzo nato per la proprio oggettività, per la sua conformazione sferica, sulla quale possiamo utilizzare esercizi tipo proprio oggettivo e esercizi legati molto all'accondizionamento muscolare. E diventa anche molto divertente allenarci col Bosu perché dipendentemente dalla creatività dei protocolli che possiamo proporre, possiamo anche stimolare molto il cliente e possiamo stimolare la nostra stessa creazione di nuovi protocolli. In questo nostro video lavoreremo per, erano più, i muscoli dei pettorali e le spalle dei tricipiti, senza sottovalutare tutti quelli che fungono da stabilizzatori e da controllori della vostra postura durante l'esecuzione biomeccanica di questi esercizi. Ok? Buon lavoro. Good. La distanza al Bosu deve essere sempre più o meno quella che di solito noi abbiamo allo step. Ok? Quindi abbiamo sempre una tradizione tale che ci permette di essere da questa posizione o scendere giusto lo step sul Bosu per andare in contatto con le nostre mani. Ok? Bene. Oggi leccano. Toccomi il Bosu. Tappo. Ok. Leccano, leccano. Bene. Per la nostra tradizione ci occorrono degli squat. Ok. Controlla sempre la tua postura in relazione al Bosu. Ok? Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. Più cambio. One. Ok. Primo contatto con il Bosu. Mano sul Bosu. Gamba dietro. One. Good. Epp. Four. Three. Two. Mano destra. Mano sinistra. Stai. Ritorna. Destro. Sinistro. Squat. Solo squat. Ok. Ti guarda sempre. Prendi il tuo tempo. Cerchiamo di andare a utilizzare movimenti semplici. Poi cambiare le man mano e identificare il nostro lavoro. Sinistro. Ok. Andiamo. One. Two. Stabilisca il tuo corpo. Controlla l'addome. E ritorno con sinistro. Squat. Ok. Senti già sotto le mani. Lavoro pubblicitivo del Bosu. Qua. Qua. Andiamo a lavorare in maniera centrica. Io voglio una discesa lenta. Una salita veloce. Ok. Quindi. Tre. Due. Uno. Ritorno su. Destro. Sinistro. Su. Primo push up. Pugliatura stretta. Lavoro per i tuoi tricipiti. Ok. Accento sulla parte eccentrica. Quindi discesa lenta. Andiamo. Go. Sinistra. Destra. 3, 2, 1, su. 3, 2, 1, su. Sinistra. Destra. Squat. Ok. Di nuovo. Con il destro. Pam. Pam. 3, 2, 1, su. 3, 2, 1, su. Ok. Con la sinistra adesso. Si va. Si va. Su. 3, 2, 1, su. Adesso attenzione. Esattamente il contrario. L'accento sulla parte concentrica. Si va giù. Si va giù veloce. 1, 2, 3, ancora. 1, 2, 3. Ok. Cambio portosina nell'esecuzione. Sinistra. Pam. Pam. Hop. Ancora. Hop. Sinistra. And squat. Ok. Relax. Torno sul bosco. Allora, adesso andiamo a lavorare sia sfruttando la fase eccentrica sia su quella concentrica. Quindi, una volta stando in stabilizzazione sul bosco. Andremo prima giù lenti. Sfruttando la fase eccentrica e veloce. Poi al contrario. Veloce. Su lenti. Ok. Squat. Andiamo. Ready? Ready? 3. 2. Let's go. 1. 2. 3. 2. 1. Up. Giù. Jump. Up. 4. 3. 2. Sinistra. Up. Su. Giù. Jump. Ok. Fantastico. Inoltre con la destra. Attenzione. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. Due veloci. Up. Singolo. Singolo. Jump. Solo squat. Quindi abbiamo combinato. Tre forme di lavoro. Eccentrico. Concentrico. Singolo movimento. Ok. Quindi. Uguale conteggio sulla fase eccentrica e concentrica. Sinistro. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. Singolo. 1. 2. Jump. Ok. Relax. Relax. Ok. Fantastico esercizio per il lavoro sui tricibili. Stabilizzate con l'addome. La contribuzione dei muscoli sinergici. Le spalle. I rettorali. Andiamo avanti. Ok. Quindi. Ricordate l'obiettivo. Tricibili. I rettorali. Ok. 4. 3. 2. Squat. Ripetiamo questo. E poi incrementiamo la struttura. Rimane in isometria. Destro. Si va. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. 2. 1. Singolo. Singolo. Cambia l'appoggio. Qui. E lo facciamo lo stesso. Up. Up. 3. 2. 1. Qui. Squat. Anche qui abbiamo sfruttato il lavoro eccentrico. Soltanto sui rettorali. Si va. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. 2. 1. Appoggio. 3. 2. 1. Su. 3. 2. 1. Su. Già. Squat. Come va? Ok? Relax. La stessa cosa. Adesso. 1. Fase eccentrica. L'altro concentrica. Ok? Quindi. Appoggio la mano sul pavimento. Primo. Push up. Fase eccentrica. Maggiormente fatizzata. Secondo push up. Al contrario. 4. 3. 2. Go. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. Single. Wop. Go. Wop. Go. Push. 3. 2. 1. Giù. 4. 3. 2. 1. Squat. 4. 3. 2. Come va? For sinistro. Let's go. Go, go. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. Single. Up. Hey. Up. Hey. 3. 2. 1. Su. Giù. Squat. Ok. Very, very strong. Eh? Possiamo mettercibili. Gli ultimi 2 push-up li faremo singoli. Quindi, fase centrica, fase concentrica. E alla fine, 2, single push-up. Ok. 4. 3. 2. Go. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. 2. 3. 4. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. 2. 1. Single. Single. Jump. Squat sinistra. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. 2. 1. Single. Yep. Single. Appoggio. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. 2. 1. Single. Single. E squat. Ok. Good. Good job. Now. La seconda parte. Cambieremo la base di appoggio. La renderemo più basculante. Ok. E sta giù. Cambia l'appoggio del boss. Ok. In questa posizione. Vedete più basculante. Squat. Good. Abbiamo la stessa esigenza di andare in appoggio. Sfrutteremo adesso. L'appoggio largo. Ok. Per simulare in forma isometrica il lavoro su pettorali. Con un piccolo lavoro di stabilizzazione. Si va giù eh. 1. 2. 3. 4. Good. Ancora una volta. 1. 2. 3. 4. Attenzione. Piccolo jump. Dietro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Squat. Ok. Senti già il controllo. Eh. La cadina pettorale dell'addome. Ancora una volta. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ok. L'importante. La contrasione dei glutei. La contrasione dell'addome. Andiamo. Si va. 1. Jump. Una gamba su. Ho alzato la destra. Per aumentare la fase di stabilizzazione. Si va su eh. 4. Quindi nella fase di volo. Stacco una gamba. E lascio soltanto una gamba moggiata. Si va. 1. 2. Controlla bene. 4. 3. 2. Squat. Nella fase di volo. Il giusto risulta ancora più difficile. Perché l'esercizio diventa basculante. Visto la base di appoggiare l'attrezzo. Ok. Ready. 4. 3. 2. Giù. 1. 2. Scendo adesso. Scendo adesso. Salgo. Ok. Squat. 2 push up. Velocissimi. Eh. 4. 3. 2. Giù. 1. 2. Push up. Push up. Jump. Jump. Ok. Tendiamo un po' l'esercizio. Un po' più intenso. E più funzionale. Nel push up. La gamba che è sollevata. Fa in flex esternamente. Proviamo. 4. 3. 2. 2. 1. 2. Push up. Qua. Push up. Up. Jump. Attenzione alla flex. Fare flex significa stabilizzare. Quindi controllate questo movimento. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Come va? Ok. Dopo in 2 flex. Le push up. Resta in isometria. Let's go. Let's go. 1. 2. Flex. Up. Flex. Isometria. Portola bene. 4. 3. 2. Jump. Si. Let's go. 1. 2. Flex. Flex. Jump. Attenzione. Adesso ho sposto il mio obiettivo. Non impugnate la lega per i mettonali. Ma stretta. A carico dei tricipiti. Attenzione. 4. 3. 2. Si va qui eh. 1. 2. Flex. Up. Flex. Up. Jump. Eh. 4. 3. 2. Si va su. Ok. 1 more time. Go. Sinistra su. Flex. Flex. Up. Jump. Scendo lento adesso. Sacco lento. Rimango. 4. 3. 2. Squat. Ok. Super small. Quindi. Largo. Veloce. Stretto. Super small. La cosa difficile è il jump biometrico. 4. 3. 2. Quindi qua. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lento. 4. 3. 2. Lento. 4. 3. 2. Jump. Sinistra. Come va? 4. 3. 2. Let's go. 1. 2. Push. Ha. Push. Up. Jump. 4. 3. 3. Step. Ok. Adesso ripetiamo. Eh? Abbiamo le brush veramente molto lavorate. Prima parte. Transizione. Seconda parte. Eh? Ricorda. La prima parte. Tricipiti. Fase centrica. Fase concentrica. Single movement. La stessa cosa per i vettorali. Con l'appoggio a terra. Ok? Cambiamo l'appoggio. Questo tipo di lavoro. Stai qui. E ancora squat. 4. Ricorda. Braccio destro o gomma destra? Eh? Ok. 4. 3. Vedi? Destra. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Single. 1. 2. Cambiamo l'appoggio. 3. 2. 1. 1. Su. Giù. 3. 2. Sigalo. 1. 1. 1. Squat. 6. Adesso con la sinistra. Vedi? 4. 3. 2. Sinistra. 1. 2. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. 2. Sigalo. 1. 2. Appoggio. 3. 2. 1. Su. Giù. 3. 2. Sigalo. 1. 2. Up. Squat. Giù. Cambio l'appoggio. Sorry. Ok? E squat. Ricorda. Largo, eh? Con la pressione della gamba. Push up. 4. 3. 2. Andiamo. Siamo giù, eh? 1. 2. Push. Up. Push. Up. Già. 3. 1. 1. Lento, lento. Lento, lento. 4. 3. 2. Ancora. 1. Qui. Flex. Flex. Up. Lento. Lento. 4. 3. Va. Ok. Good. Grazie. 4. 3. 2. Ispira. Ispira. Grazie. Ci vediamo al mio prossimo video. Social System. Stasano cerino. No. All beginning.